Gentili telespettatori buona giornata. Arriva anche la mozione di Fratelli d'Italia. Perché anche la mozione di Fratelli d'Italia? Questa settimana si voterà in Parlamento per due mozioni. Due mozioni sono due proposte di modifica di una legge. Ci vogliono dei numeri minimi per poter presentare la proposta di modifica di una legge. Le ha trovati sia Fratelli d'Italia sia il centrodestra di governo, cioè Salvini, Berlusconi, Udc e cambiamo. Questa settimana ci saranno queste due proposte al voto che saranno vincolanti, cioè se vincono il governo deve fare quello che dicono queste mozioni, cioè proposte di modifica. Queste due proposte di modifica dicono esattamente la stessa cosa, la stessa identica cosa. Una proposta da dentro il governo e una da fuori. Tutte e due potrebbero avere degli esiti imprevedibili, ma soprattutto quella fatta dal centrodestra di governo, più di quella della Meloni. Quella della Meloni che vi parlerò non ha possibilità di esito perché il centrodestra di governo, Salvini, Berlusconi, Udc e cambiamo, non potranno votare quella della Meloni perché all'opposizione diventerebbe ancora più pesante il problema, mentre propongono la loro che è esattamente la stessa cosa. Intanto, se passa, le conseguenze saranno comunque problematiche in tutti e due i casi. Perché? Intanto, se una parte del governo propone di modificare un qualcosa che ha votato lo stesso governo, perché sia Lega che Forza Italia, in Consiglio dei Ministri, hanno votato con Draghi per non cambiare le chiusure e adesso fanno una mozione per cambiare quella decisione e riaprire tutto. Se dovesse vincere il sì alla mozione del centrodestra di governo, allora Draghi potrebbe dire, ah sì? Adesso voi con la mozione cambiate le nostre e le mie decisioni? Io me ne vado, andate avanti voi, divertitevi. Questo potrebbe fare Mario Draghi, prendendo e andando a dare le dimissioni da Mattarella. Potrebbe succedere esattamente questo. E intanto, come vi dicevo, c'è anche la mozione di Fratelli d'Italia. Sono quattro punti di Giorgia Meloni. Il primo, dice, rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22, la cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è stata mai provata né avvallata da alcun organismo scientifico qualificato. Questo è uno dei quattro punti della mozione di Fratelli d'Italia che impegna il governo, perché se passa il governo deve fare esattamente questa modifica. È stata depositata al Senato e verrà discussa e votata giovedì. Il partito di Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, rende immediate le riaperture di tutte le attività commerciali, degli impianti sportivi, delle attività di ristorazione, anche al chiuso e dei luoghi della cultura, biblioteche, teatri, cinema e musei, dove siano disposte adeguate misure anti contagio e nel rispetto dei protocolli. Inoltre, per Fratelli d'Italia bisogna chiarire che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'aperto, si impone solo e soltanto quando non sia possibile assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro, come indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo del 2021. La mozione chiede di rimuovere il limite di una visita al giorno presso una sola abitazione privata, amici, parenti e congiunti non conviventi, nonché quello relativo al numero di persone che possano ivi recarsi, ove le caratteristiche dell'abitazione e le circostanze di fatto consentono di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Ma quello sulle visite a parenti e amici realmente... ma come fa lo Stato a controllare se voi siete andati una o due volte a casa dell'amico o dell'amica? Dai, su, non parliamo di... anche di cose che realmente sono poi solo sulla carta. Sono realmente solo sulla carta. Ma soprattutto soprattutto diciamo che quella della Meloni ha poca possibilità di riuscita perché non sarà appoggiata da nessuno. Solo da Fratelli d'Italia, probabilmente da Paragone, da Sgarbi, da qualche altro senatore. Quella di Giorgio Meloni non avrà possibilità proprio perché né Salvini né Berlusconi né Totti né gli altri del centrodestra voteranno. Perché poi vorranno comunque cercare di far passare la mozione del centrodestra di governo, come vi raccontavo prima. Realmente quella mozione lì potrebbe avere dei risvolti imprevedibili perché, a differenza del centrodestra di governo che non voterà la mozione di Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, per come ho capito io, e se non mi sbaglio, voterà quella del centrodestra. Giorgio Meloni l'ha sempre detto, se io reputo una cosa giusta la voto. Giorgio Meloni la stessa settimana propone una modifica identica a quella del centrodestra di governo e se una non passa lei voterà l'altra. E quindi Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e magari anche altri senatori o altri partiti minori voteranno con il centrodestra unito a questo punto, questa mozione di sfiducia proposta dal centrodestra di governo, a quel punto potrebbe provocare nel governo realmente un problema perché il governo sarebbe costretto a cambiare le sue decisioni e questo potrebbe realmente succedere. Nessun giornale lo sta dicendo, però questa è la possibilità reale di quello che potrebbe succedere tra qualche giorno, qualche giorno. Oggi è mercoledì, tra domani e dopodomani perché queste due mozioni si voteranno in questi due giorni successivi prima di sabato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in TikTok, un nuovo social e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Se volete nella community ci sono anche dei sondaggi ai quali poter partecipare e commentare, mentre c'è anche l'abbonamento al canale è uno solo, da 0,99 centesimi al mese, che oltre ad aiutare il canale potete vedere alcuni video solo con questo abbonamento. Almeno più o meno un video in più al giorno per chi ha questo abbonamento. Grazie a tutti quanti e se volete ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Arrivederci a tutti.